Ciao a tutti da Patrick Facciolo, questo è Public Speaking Professionale. Oggi voglio cominciare raccontandovi che ancora per alcune ore è possibile votare il mio canale Telegram come miglior canale nella categoria scienza e con questo voglio anche informare chi non lo sapesse che ho un canale Telegram che si chiama proprio così Public Speaking Professionale. Magari molti di voi mi stanno ascoltando già da dentro il canale, ma molti altri magari mi seguono direttamente dal podcast. Ci tengo particolarmente a essere stato nominato per questa categoria, cioè la categoria scienza, dato il mio sforzo costante, come molti di voi sapranno, di fare divulgazione sui temi dell'arte e di parlare in pubblico citando il più possibile fonti, dati, studi a sostegno delle cose che dico nei miei video. Credo che sia un aspetto importante, credo che la comunicazione, le cose che si dicono sulla comunicazione possano essere sostenute da argomenti, che sia importante farlo, quindi che non si apre il microfono per dire la prima cosa che ci viene in mente, ma che quando raccontiamo, quando divulghiamo delle cose alle persone, ecco penso che sia importante che prendiamo atto del fatto che esistono tanti studi, tante persone che hanno studiato la comunicazione e che quindi possiamo comunicare delle cose che siano in qualche modo sostenute, ok? Vi faccio degli esempi concreti, tante volte io vi racconto cose sul linguaggio non verbale e cito studi che hanno raggiunto determinate conclusioni. Perché questo aspetto è importante? È importante perché io non mi alzi la mattina e vi dica, ah, questa persona ha fatto questo gesto e quindi significa che esprime timidezza. Ecco, questo ovviamente è rischioso da un punto di vista divulgativo, perché stiamo parlando di un'interpretazione, cioè del fatto che una persona dica, vabbè, ho visto quello che muove il braccio in questa maniera e significa quest'altro, ok? La mia domanda è, dal punto di vista di chi significa questo, chi l'ha sostenuto, quali evidenze scientifiche ci sono che questo gesto significhi questo? Se ci pensate c'è un po' mettere insieme tutti i lati del mio lavoro, da una parte c'è il giornalista a cui non piacciono le fake news e dall'altra parte c'è il dottore in tecniche psicologiche che ha il dovere di argomentare citando delle fonti quello che dice, quindi non di dire la prima cosa che gli viene in mente. Ecco, in questo senso ci tengo proprio a questo aspetto, cioè al fatto che il mio canale sia stato inserito dentro la categoria scienza, perché è vero che le scienze sociali, la sociologia, la psicologia, l'antropologia si collocano all'interno del novelo delle cosiddette soft science, come già dicevamo qualche giorno fa, cioè nell'ambito delle cosiddette scienze morbide, però non è che perché sono scienze morbide non sono scienze che non possano essere validate, che non abbiano una validazione, anzi il contrario, chi ha studiato sociologia, chi ha studiato psicologia, scienze tecniche psicologiche, sa che nell'ambito di queste discipline esistono delle materie specifiche, per la sociologia esiste la metodologia della ricerca sociale, per la psicologia esiste la metodologia della ricerca psicologica, proprio perché sono materie che è vero che non sono misurabili come può essere misurabile, che ne so, la chimica o la biologia o la fisica come quelle che definiamo genericamente le scienze dure, ma allo stesso tempo sono misurabili perché esistono studi e ricerche sulle correlazioni tra variabili, sul fatto che una variabile possa causare una variazione di un'altra variabile, sugli effetti di determinate azioni, sulla misurazione dei comportamenti e tutto questo le colloca nell'ambito delle scienze, benché scienze morbide, benché soft science, stiamo parlando di scienze, cioè stiamo parlando di fenomeni che sono misurabili anche nella sociologia, anche nell'antropologia e anche nella psicologia, ed è molto diverso ovviamente alzarsi la mattina e fare divulgazione dicendo la prima cosa che ci viene in mente, dal fare divulgazione cercando di argomentare, di sostenere le proprie posizioni portando agli ascoltatori anche come riferimento degli studi che sono stati fatti su determinati argomenti e non, come vi ripeto, la prima cosa che ci viene in mente. Questo credo che sia importante e per questo motivo, ripeto, sono molto orgoglioso che il mio canale Public Speaking Professionale sia stato inserito proprio nella categoria scienza. Detto questo, mi fa piacere ovviamente se mi ascoltate, se mi seguite, se seguite i miei podcast, se seguite i contenuti che vi propongo, mi fa piacere se vorrete appunto votare questo canale Telegram proprio in questa categoria. C'è la possibilità di farlo ancora per alcune ore, basta entrare nel canale Public Speaking Professionale dove ho riproposto il sondaggio. Trovate una serie di canali citati della categoria scienza e potete votare proprio per il mio. Buon weekend, buon fine settimana da Patrick Facciolo e noi ci risentiamo con la prossima puntata martedì. Ciao a tutti!